al primo che dice che il copio fa vj arriva una sberla con Magikar e al secondo ne arrivano due e oggi siamo su pasta non disponibile simulator in realtà sono qui su draw my thing ma sto cercando di aggiornare la foto del profilo ma non riesco ad aggiungerla dai vantina mossa quanto tempo ci vuole ma che lavoro dai ecco porca puttana oh ce l'ho ben fatto ragazzi cominciamo la partita facciamo senza immagine e buonanotte ragazzi no, sto qua è una pecora come fa a non essere una pecora è uno che dorme su una pecora cos'è? mi ha fatto il cazzo lui qua no non si chiude così no 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 non ti allargare ho già paura di vedere cosa mi può disegnare io z09 che sicuramente fa parte della jihad ok il cappello è quello di Bob Marley come non è Bob Marley? pedo bear questo qua pedo bear no non è neanche ma cos'è? questo è un coglione ragazzi tocca a noi scegliamo ragazzi smoke per forza adesso si fa un bello snoop dog allora non fate caso alle gambe non sono tette sono mani piegate in alto anche se si capisce veramente male le ragazzi se non è snoop dog questo guacalavoro oh vediamo che l'hai indovinato scusatemelo è lui no ma c'è stata la soluzione io non lo scrivo non lo scrivo bari oh si sono un illuminato cos'è la spina dorsale di Maurizio Costanzo questa oddio christmas tree christmas tree albero di natale albero di natale madonna do ragazzi adesso qua ti faccio un bel pennuto come si deve faccio un bel piccione allora le ali ma va che roba lì il becco ragazzi cioè permettetemelo permettetemelo facciamo anche le frecce perché la gente non capisce un cazzo no no ragazzi non è un uccelli cioè insomma si è un pennuto ma in teoria questo dovrebbe essere un cosa un insomma un volo un vola per aria facciamo anche le nuvole perché la gente è un pochino isdita no e allora devono capire che questo è per aria ragazzi un po' di fantasia dai oh bravo meno male signori miei ma sinceramente ma quanto è bello ecco questo qua fa sempre dei capolavori eh da vedere che un svaldo paniccia eh spettacolare bravo 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 cos'è pioggia questa ragazzi adesso io ho paura io vi faccio vedere come si disegna un'anatra una pappera insomma ecco allora facciamo la bella coda come il penuto cos'è state buoni beh adesso vi faccio un germano reale lì ecco facciamo il ok il becco potrebbe venire ok c'è la testa un po' stroppia comunque bravi bravi ragazzi scusatemela scusatemi ma io do la paga tutti qua fanno veramente disegni di merda sono i più artistici cerchiamo ragazzi cutie pie marzia questo è cutie pie marzia la ragazza di pedie pie cutie pie dai che sbaglio a scrivere oddio ragazzi ci ho preso c'è scusatemelo scusatemelo mamma mia pizzeria sono stato primo ragazzi cutie pie marzia giusto next of no got it scusatemelo è lei è identica terzo porca salmastra ripetiamo ok adesso siamo un po' di più no e quindi possiamo vederti fare qualcosa un pochino più sensata allora questo qua disegna cosa allora bene ahimitalia no io sono io sono illuminato pistola gun ok si però veramente cioè insomma ma perché ma perché ci fa un cazzo in mezzo ah ho capito sniper sniper ho capito sniper ovviamente il cazzo è anche detto un cecchino insomma il basta dubbiai barbo amore per forza scettiamo next of no win ragazzi ti ho espresso la mia arte e e e e e basta va bene ragazzi comunque il video finisce qui spero vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un like e il commento se volete iscrivetevi al canale guardate la pagina di facebook e twitter per sapere comunque quando carichiamo video e quando comunque ci ho scrivo una marea di stronzate quindi se volete buttare anche lì mi ci fa solo piacere qui da next è tutto bella ciao